Ciao a tutti, sono Valentina Giuff. Ho deciso di aprire questo canale perché voglio condividere con voi le mie avventure, quindi benvenuti. Oggi è anche giorno di Natale. Buon Natale a tutti! So che non è un periodo semplice, ma spero che state cercando di prenderla nella maniera più positiva possibile, come sto cercando di fare anch'io. Che sono dall'altra parte del mondo e di certo non sarà un Natale tradizionale in famiglia, però dai, cerchiamo di viverla bene lo stesso. Adesso che ci penso? È il mio primo Natale all'estero e in Asia. Dai, voglio portarvi insieme a me a trascorrere questo Natale un po' alternativo, un po' diverso e spero che possa strapparvi un sorriso. Andiamo a vedere! Insomma avete visto questo ricchissimo pranzo di Natale, però per me è stato un pranzo da re e regine, perché insomma me l'ha preparato il mio amore ed era comunque una pasta alle zucchine super molto buona. Anche se non erano i ravioli in brodo della mia nonna Maria, però ci accontentiamo lo stesso e soprattutto anche se sono le 11 non importa perché oggi abbiamo la partita e quindi bisogna stare leggeri, però ci avevamo anche il centrotavola, quindi insomma dai! Cioè lo spirito Natalizio è conservato! Ora si va a giocare! Grazie! Ciao! Ed eccoci qui, abbiamo appena finito la partita e ovviamente rimanendo sulla scia di questo 2020 fantastico abbiamo anche perso il tie break. Ho fatto 45 punti ma non sono bastati, quindi ragazzi c'è che dire. Adesso è il momento della cena, quindi vedrete, perché abbiamo scelto comunque qualcosa di tradizionale, essendo che oggi a pranzo è stato un po' così, un po' particolare, stasera insomma ci concediamo la tradizionalità, il Natale, quello vero. Parliamo di tradizione? Eccoci qua al messicano. Cioè io penso che se non mangio i ravioli di mia nonna a Natale non è Natale, eppure eccoci qua, oggi mangerò il boccavole, cose piccantine, non lo so, però insomma questo non poteva essere che il Natale del 2020, un po' diverso, un po' strano, un po' così ecco. Però prendiamo il lato positivo delle cose e godiamoci questa cena messicana. In Corea, giustamente, perché è ovvio. Buona sta patatina piena di sale. La tradizione. Nonna, non guardare questo video, non lo guardare, non lo guardare. Mi mancano i tuoi ravioli tanto, tanto. Faremo un non Natale quando torneremo in Italia. Nel frattempo mi sfondo di guacamole e coronarita. Secondo me se lo sono inventati qua in Corea perché non l'ho mai sentito nel mondo, ma è buono. Beh, dopo la cena tradizionale, i giochi da tavolo un po' meno tradizionali, forse con il burraco, non c'entra, no, no, non c'entra, ma... Vabbè, oddio, noi ci adattiamo. Eh, questo ci abbiamo. Siamo giunti alla conclusione di questo primo video. Spero che vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso. Questo Natale 2020 è stato un po' strano, un po' atipico per tutti, quindi mi piacerebbe che mi scriveste nei commenti cosa avete fatto voi, come l'avete passato, cosa è successo, se avete combinato qualcosa anche voi. Ci vediamo nel prossimo video in cui vi racconterò la mia avventura di Capodanno 2020. Cioè, ho già detto tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, è un canale nuovo, ha bisogno di voi, ha bisogno di tanti iscritti. Ciao ragazzi, non mancate! Ciao ragazzi, ciao ragazzi!